E questo che pene è? Niente, cose omeopatiche mie di donna. Fa rimanere incinta sicuro, testuali scritte. Mi volevi fregare ancora con questa storia dei figli. Se permetti, l'unica cosa di bene che mi rimasta da fare in questo mondo è quella di non fare un figlio, va bene? E lo sai cosa penso io invece? Eh? Penso che passi tutta la vita a fare un cazzo, che non agisci e non fai nulla di concreto. Se tu vuoi fare qualcosa, la fai, lo capisci? Se vuoi salvare il mondo, lo salvi, perché nel tuo piccolo qualcosa la puoi fare, invece tu non fai niente! Sei solo un fallito insoddisfatto! Io? Io nelle tue parole sento solo scorregge, Giulio! Ma quando farai la cacca?